E non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Daieee! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video! Io sono Xyuder e ragazzi stavo in live su Twitch e a un certo punto alcuni ragazzi mi hanno detto Xyuder guarda che è uscito il secondo teaser ufficiale in Giappone! Porco mondo! Vi pare che non mi metto qua a fare la registrazione di un video? Sì ragazzi perché finalmente abbiamo un'altra informazione su quello che riguarda la season 2 del capitolo 2 di Fortnite Ragazzi tanta tanta roba e il teaser per quello che riguarda oggi è proprio questo! Vi voglio far vedere ragazzi il video direttamente registrato con un cellulare pochissimi minuti fa E come vedete in questo palazzone nel mega schermo Sony guardate un po' Attenzione attenzione ragazzi nuovo numero di telefono e come vedete l'effetto sempre disturbato Che già abbiamo visto in altre season precedenti di Fortnite lascia, tralascia anzi una nuova informazione La mano dorata l'abbiamo già vista ma il nuovo numero di telefono invece no Ovviamente non c'è stato molto da aspettare prima che qualcuno decidesse appunto di provare a telefonare A questo numero di telefono e che cosa hanno sentito? Ve lo faccio vedere subito, anzi ve lo faccio sentire subito ragazzi Questa è la chiamata con il numero di telefono, eccola qua Come vedete ragazzi ovviamente io non parlo giapponese Se qualcuno di voi parla giapponese tanta tanta roba Ma come vedete si è sentito nuovamente la voce, il miagolio della gente muscless Quello in poche parole che abbiamo già visto negli ultimi giorni Che vi ho fatto vedere, anzi che vi farò vedere nel video delle 13.30 Che cosa vuol dire tradotta quella frase? Vuol dire c'è richiesta di un agente, mi hanno detto L'agente non è ancora pronto, siamo pronti all'ingaggio Insomma ragazzi non si riesce bene a capire ancora il nesso tra l'evento oro, il muscless Gli agenti che già avevamo sentito nella season 9 per quello che riguarda i 7 Vi ricordo che dopo vi spiegherò meglio nel video delle 13.30 Per oggi comunque questo teaser andava fatto a vedere Io vi ringrazio per aver guardato il video Vi mi raccomando di mettere un bel pollicione in su Iscrivetevi in tantissimi al canale Noi siamo in live ovviamente sulla piattaforma viola Ciao